Sono stati presentati all'interno della splendida cornice di Palazzo Moroni a Padova i campionati assoluti della BMX che si disputeranno il 3 e 4 luglio sul nuovo impianto di Padova. Ezio Piovesan, presidente della team Panther Boys Padova, un grande onore e una grande responsabilità. Sì, certamente una grande responsabilità per una competizione così importante, il massimo che c'è a livello nazionale. Siamo stati rodati dalla gara che abbiamo fatto precedentemente, che era una gara internazionale e in regime di Covid è stato difficilissimo organizzarla, però ci siamo riusciti. Quindi contiamo che anche il campionato italiano abbia la stessa sorte, cioè che sia un gran successo. Il prossimo 4 luglio si taglierà ufficialmente il nastro di questo nuovo impianto, un impianto che vede già girare più di 200 ragazzi. Sì, abbiamo 200 ragazzi che si allenano sistematicamente, divisi per gruppi, con una decina di allenatori, ma l'impianto non è ancora stato inaugurato proprio per motivi di Covid e con l'amministrazione comunale e l'assessore Bonavina ci siamo accordati per fare il taglio del nastro proprio domenica 4 luglio, cosa che era necessaria e che la cittadinanza di Padova si aspettava. Una rassegna tricolore che assegnerà anche la sesta edizione del trofeo Pietrobelli elettronica con il supporto ovviamente di Antenor Energia, di BL Trasporti e tipografia veronese. Amici che vi sono al fianco, così come lo è stato il Comune di Padova. Sì, il Comune di Padova ci è stato molto vicino nella costruzione della pista, dove ha fatto un importantissimo investimento, ma la nostra attività quotidiana, la nostra attività normale è supportata dagli sponsor. Se non ci fossero loro avremmo delle grosse difficoltà o dovremmo far pagare di più quello che attualmente viene dato come prestazione di servizio e quindi come gestione degli allenamenti dei ragazzi. Oggi pagano una cifra molto bassa proprio per sopperire alle spese minimali, ma gli sponsor ci danno una mano, senza di loro sarebbe molto difficile. Contiamo invece che con questo campionato italiano qualche altra realtà di sponsor si possa avvicinare a questo sport che è comunque una specialità olimpica e che ha la stessa identica dignità di tutte le altre specialità olimpiche. Assessore Diego Bonavina, siamo a Padova per la presentazione del campionato italiano BMX. Finalmente si corre, finalmente questa pista si può tagliare il nastro. Ci sono tanti finalmente da dire, effettivamente. Sono una giornata importante, bella, felice, perché ci sono due cose da sottolineare. La prima è la ripresa dell'attività sportiva dopo questo periodo allucinante che abbiamo vissuto a livello mondiale e che lo sport ha subito in maniera clamorosa. La seconda è perché, insomma, tanti sforzi fatti dall'amministrazione comunale per mettere in pista un impianto bellissimo, uno dei migliori a livello nazionale, un'associazione che è nata e crede nella crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze attraverso lo sport, in uno sport particolarissimo che sta diventando e sta prendendo grandissima forza a livello mondiale. E quindi è bellissimo che a distanza di pochissimi giorni, pochissime settimane dalla conclusione dei lavori abbiamo addirittura un campionato italiano. Quindi è un momento bellissimo il 3-4 luglio presso l'impianto sportivo del Brentella nella pista della BMX ospitare un campionato italiano che vedrà anche la mattina della domenica l'inaugurazione ufficiale dell'impianto. Quindi tanti finalmente. 3-4 luglio sarà una grande festa ma sarà un punto di partenza per un futuro dedicato allo sport, allo sport dei giovani. Ma sì, è verissimo, a me piace sempre guardare avanti, sempre nell'interesse dei ragazzi e delle ragazze che fanno sport, però la crescita di un'attività sportiva, la crescita di uno sport in particolare passa inevitabilmente attraverso i grandi eventi perché è lì che i ragazzi si innamorano, è lì che vedono dove potrebbero arrivare, poi sappiamo che ne arrivano il 10% di quelli che cominciano ma quel 90% rappresenta la nostra forza e grazie ai grandi eventi riusciamo a far crescere i nostri ragazzi e a far sì che tanti ragazzi si affaccino a questo sport che è meraviglioso. Massimo Ghirotto, responsabile della Commissione Nazionale Fuoristrada, il BMX è sempre di più una disciplina in crescita e interessante per far crescere tanti ragazzi. Abbiamo sentito prima il Presidente Piovesan fare una relazione sui numeri, una società che ha 200 atleti da gestire, credo che questi sono numeri veramente importantissimi. Il BMX è disciplina olimpica, avremo Jack Fantoni che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo e su questo aspetto se ne deve anche discutere perché abbiamo bisogno di impianti, questo è quello che sta emergendo nella discussione che stiamo facendo anche qua in questa sede del Comune di Padova. Quindi c'è da lavorare, c'è da chiedere disponibilità da parte della Federazione e delle società perché i ragazzi che vogliono fare il BMX sono tanti e quando c'è questa base così importante abbiamo il dovere come federazione di essere presenti. Tommaso Lupi, tecnico della Nazionale Italiana di BMX, sono pronte le valigie per Tokyo? Sono pronte da un po', sono pronte grazie anche a una trasferta importante che mi ha fatto in Colombia dove abbiamo portato a casa due finali di Coppa del Mondo con quelle due finali abbiamo firmato il biglietto per Tokyo, quindi sono pronte ci stiamo organizzando, sarà un'Olimpiade impegnativa a livello logistico, organizzativo causa ovviamente Covid, però siamo pronti, non vediamo l'ora di partire partenza prevista 21 luglio, gare 29 e 30 di luglio. Quanta emozione c'è? Come ho detto prima, per me è una giornata importante perché siamo qui a presentare il campionato italiano italiano, ma parallelamente io insieme alla squadra azzurra abbiamo il biglietto per Tokyo quindi diciamo che sono due regali che però ci siamo guadagnati grazie a tutto il movimento del BMX che ha supportato queste Olimpiadi, ha supportato il percorso verso la qualifica quindi tante emozioni e tanta voglia di partire. 3 e 4 luglio, campionati italiani di BMX a Padova, una manifestazione importante anche per dare visibilità a quei ragazzi che crescono per il dopo Tokyo. È una manifestazione importantissima perché alla fine i team che poi andranno a formare gli atleti che probabilmente arriveranno in squadra nazionale poi in futuro saranno presenti a una manifestazione in un impianto nuovissimo di livello internazionale basato su regole UCI quindi sarà una giornata importante, Padova torna a vestire la maglia tricolore e soprattutto a consegnare le maglie tricolore che sono alla fine un obiettivo per un atleta uno dei principali